Bentornati sul canale, questo è un videolampo perché non sapevo come dirvelo, ho appena comprato i kit dei filtri Polar Pro sia al modello Shutter che quello Bivid quindi sono 9 filtri a un prezzo speciale a 106€ e costavano 150€, mi è arrivata la notifica da Amazon che sono scesi appunto quindi volevo dirvelo anche a voi perché mi chiedete spessissimo che filtri comprare, questi sono i migliori filtri che potete trovare sul mercato infatti sono della Polar Pro che è leader nel settore, beh da lunedì li inizieremo a provare e niente, quindi ve li consiglio, super consigliati questo pacchetto in offerta anche perché 3 filtri e 3 filtri quindi quelli Vivid e quelli Shutter costano 65€ l'uno e soprattutto questa è la serie cinema quindi i migliori proprio beh solo questo volevo dirvi, vi lascio il link in descrizione e sono i migliori filtri, vi dico solo questo, ciao!